Ciao ragazzi siamo tornati con gli incarichi di Fortnite Incubo parte 3 Dobbiamo sconfiggere il tagliatore ultima che è il boss che hanno giunto a macchia del mastino La prima città praticamente a destra, in basso a destra Andateci armati e state attenti perché nelle prime ore, nei primi giorni Sarà pieno di gente che vuole andare a completare la missione Quindi armi in mano mi raccomando Insomma magari fatelo non fatelo da soli fatelo in squadra Lo trovate subito ragazzi infatti è lì al centro Io prendo qualche arma non l'ho mai fatto questo boss qui Quindi non so manco se è forte E ora lo scopriamo subito Vediamo cosa ci dà qua Le doppie mitragliette direi che si può già provarci con queste Anche se i colpi non sono tantissimi Vediamo 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 Anche un'altra arma Comunque Non dovrebbe essere un gran che Adesso Boh Facciamoci anche questo Almeno siamo pieni Ok Vediamo qua cosa ci dà Vabbè raga Ci proviamo Ci proviamo Due mitragliette ce la dovremmo Ce la dovremmo fare Allora dov'è Dov'è In centro era Eccolo qua Mi spara subito raga Appena vi vede Quindi occhio Però si Non sembra Non sembra Il massimo L'unico problema è che Non so se ci faccio Ok Niente raga È molto scarso Ci droppa anche Il lanciazucche Leggendario E il Fucile pesante A paletti Sempre leggendario Eccolo qua Allora un bello Mi raccomando Per supportare il canale Il codice creatore Sempre attivo Ragazzi lo usate Taggatemi Ciao Ciao